Presidente Marsiglio, oggi parliamo di PNRR e infrastrutture. In Abruzzo le infrastrutture sono un tema importante e portante per quanto riguarda lo sviluppo. È il tema principale che abbiamo affrontato nel corso di questa legislatura. Stiamo arrivando a definizione di una serie di opere molto importanti. Oggi ci sono interlocutori di altissimo profilo, di RFI, del Ministero dei Trasporti, di ENAV, dei vari enti a livello nazionale coinvolti nel potenziamento delle infrastrutture strategiche dell'Abruzzo alle quali la nostra regione ha dato un impulso decisivo. Siamo ormai pronti a definizione su una serie di progetti, dalla velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, al potenziamento dei porti e della logistica con gli interporti, alla realizzazione di strade, alla conclusione di progetti che attendono ormai da troppo tempo, come la Teramo Mare, che stanno ormai andando a definizione. Quindi presto vedremo aperti i cantieri, abbiamo bisogno di una ulteriore spinta, di nuovi finanziamenti che possiamo però ottenere se l'Abruzzo dimostra di voler spendere davvero questi soldi, di voler davvero realizzare queste infrastrutture. Quindi la regione, come sta già facendo da tempo, è sempre a disposizione per fare i tavoli di mediazione, per cercare di conciliare i diversi interessi in campo, per fare in modo che l'arrivo, la realizzazione delle nuove infrastrutture non solo non produca danno, ma anzi sia a beneficio dei territori, con le dovute compensazioni, con i giusti compromessi, con le corrette progettazioni e gli interventi di mitigazione, però una cosa deve essere chiara, le strade si devono fare, i porti si devono potenziare, la ferrovia deve correre veloce, perché questo è il futuro dell'Abruzzo, altrimenti saremo tagliati fuori dallo sviluppo, saremo tagliati fuori in futuro dalle direttrici economiche principali italiane ed europee. Non ce lo possiamo permettere, stiamo anzi lavorando per recuperare il terreno perduto nei decenni scorsi, in cui c'è stato un sostanziale blocco degli investimenti nel nostro territorio, dobbiamo adesso cavalcare quest'onda e correre velocemente verso il traguardo e gli obiettivi prefissati.